Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a consueto appuntamento con l'incontro con il socio e abbiamo dato anche spazio all'incontro col professionista. Oggi abbiamo un professionista di tutto rispetto e mi trovo francamente un po' in imbarazzo a doverlo intervistare per questo ho chiesto l'aiuto di Riccardo, la mia spalla che mi ha abbandonato in questa stagione. Ciao Riccardo! Ciao Calogio, però dai in questo momento di bisogno ci sono. Ah ok, ti ringrazio. Chi è il nostro ospite di oggi? Oggi siamo in presenza di un docente di color grading di tutto rispetto che in pratica svolge la sua professione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e di Milano. Oggi siamo in presenza di Alessandro Bernardi. Ciao Alessandro! Ciao Alessandro! Ciao, grazie per questa presentazione assolutamente immeritata, insomma. Non è il caso di cominciare così, se no poi dopo veramente non so che devo dire più, insomma. Assolutamente no, quando ci sono i risultati nelle nostre professioni penso che sia il minimo i riconoscimenti. Sarà una puntata un po' particolare perché abbiamo concordato insieme una scaletta, quindi ci darai delle dritte per come noi professionisti, bravo, noi professionisti dobbiamo interfacciarci un po' con quello che è ormai quasi sulla bocca di tutti, ce lo siamo detti per telefono oggi pomeriggio quando ci siamo sentiti, color grading, color correction, però quanti realmente capiscono o sanno utilizzarla in maniera corretta? Dai, stavi dicendo qualcosa? No, 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 io lo stavo ascoltando attentamente. Allora, innanzitutto grazie, benvenuti, bentrovati a tutti e soprattutto grazie a voi di avermi invitato in questa chiacchierata fra amici, insomma. Io la prendo un po' così, in maniera piuttosto informale. Hai sollevato un tasto, fra virgolette, dolente, o forse sarebbe più corretto dire delicato, perché il punto di tutta la faccenda è che si parla di color grading, di color correction e tutto quanto il resto, ma poi nella realtà dei fatti, quando si va a toccare con mano, molto spesso le persone non hanno capito di che cosa stanno parlando. non perché siano ovviamente stupide, ma perché c'è molto fraintendimento. Allora, da un certo punto di vista è un po' come parlare di cucina, no? Per certi aspetti. Nel senso che oramai siamo tutti chef, siamo tutti cuochi, eccetera, eccetera. Però poi alla fine chi ci lavora veramente con la cucina sa che non è propriamente una cosa semplice, come te la fanno vedere, la ricetta dei 5 minuti, il tutorial su YouTube. Ecco, perché io faccio questo parallelo con la cucina? Perché in realtà si tratta di fare delle cose, di preparare delle pietanze, e facendo ovviamente le debite distinzioni, le debite differenze, anche con le immagini è un po' così. Possiamo in qualche modo manipolarle, combinarle insieme e soprattutto anche andare a, come dire, a valorizzarle oppure a distruggerle. Sta tutto nelle nostre mani, sta tutto nella nostra capacità di utilizzare quello che c'è già all'interno dell'immagine, che è una cosa che non tutti riescono a vedere e a quel punto sì che si riesce a creare qualcosa di effettivamente bello, efficace e così via. Quindi quello che noi vediamo adesso è che alla fine funziona molto bene perché tutti se ne rendono perfettamente conto. Adesso io qualche tempo fa sentivo addirittura un'intervista di Marco Montemagno, che sicuramente conoscono tutti quanti, esatto, il quale parlava di una serie e diceva, forse della regina di scacchi, se non vado errato, diceva, ah, poi c'è un color grading fantastico e compagnie bella. Quindi anche una persona che non è del settore, come può essere un Montemagno della situazione, arriva a parlare di color grading, vuol dire che il color grading di base funziona. Ok? Perché? Perché manipolare, maneggiare e andare a usare il colore in un certo modo è qualcosa che funziona. E funziona non da adesso, funziona da qualche decina di migliaia di anni. Ok? Perché è una pratica che attinge a qualcosa di molto, molto antico. Adesso si esprime tramite i mezzi che sono quelli attuali. Oggi è più semplice, più semplice, tra virgolette, quasi alla portata di tutti. Ah, sul fatto che sia più semplice... No, 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 mi sono espresso male. No, 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 parliamone, parliamone. Questo è un ottimo spunto che non c'è nella scaletta, ma riguarda, secondo me, come approcciare correttamente il color grading. È il primo argomento che ci siamo dati per evitare di sporare, fare una diretta di 87 ore. Però, più semplice, ecco, allora, lì tocchiamo un tasto molto importante. Supponiamo che io vi metta davanti, ok? Tutta una serie di pietanze con cui potete fare qualunque ricetta vogliate, ok? Ok. Carne, vegetali, carboidrati, quello che volete, verdure, tutto. E poi io vi dico, scegli la ricetta migliore per questa serata. Tu cosa cucini? Cioè, hai tutto quel materiale e sei in dubbio. È il panico, è il panico. Sei in dubbio, bravo. Adesso, tu trasporta la stessa scena in una situazione tipo mille anni fa, facciamo 1500 anni fa, ok? Quindi, non nel secolo precedente, ma nel secolo ancora prima, facciamo 1800, dove tu dovevi comunque preparare qualcosa per la serata, ma che cosa potevi avere a disposizione? Non tanta roba. Potevi avere a disposizione solo quello che avevi intorno a te o che tramite un esborso notevole di denaro con, diciamo, anche un impiego di risorse enorme riuscivi a procurarti. Quindi, i pranzi più importanti erano quelli dei re, i quali, ovviamente, non avevano limiti a quello che potevano avere a disposizione. verosimilmente, avere meno cose a disposizione significa dover prendere meno decisioni. È più facile prendere delle decisioni. Oggi possiamo fare tutto. Lo possiamo fare con questi oggetti qui, lo possiamo fare con il computer, lo possiamo fare con il tablet, lo possiamo fare in 3 miliardi di modi diversi. Quindi, il punto focale, il punto cruciale di tutto quanto, dove sta? In quello che vogliamo fare e soprattutto perché lo vogliamo fare. E anche a che livello lo vogliamo fare? Quello viene dopo. Perché io posso cucinarti una carbonara e tu mi dici Bernardi, bella, buona questa carbonara. Ok, non lo so adesso tu di dove sei. Sento che sei più o meno dalle mie parti, più o meno. Sì, Bresciano io sono. Si sente da Bresciano. Ah, ok, Bresciano, va bene. No, quello Bresciano sono io, non si sente. Cioè, siamo tutti e due siciliani. Io vivo e lavoro in Sicilia, lui vive e lavora a Brescia. Ok, però siamo tutti quanti nati al di sotto del Po. Sì. Facciamo anche al di sotto del Tevere, che è meglio. Ok. Ecco, esatto. Quindi, il concetto fondamentalmente è questo, cioè quando io ho meno possibilità riesco a pensare in maniera più semplice, più essenziale. Ma di base, se io ti metto in mano una serie di ingredienti, ti dico cucina un piatto e puoi fare qualunque cosa, tu hai tante decisioni che puoi prendere. E fra queste, tante sono sbagliate. Cos'è che fa la differenza? Quello che c'è qua dentro, questa nostra scatola cranica, che è un qualcosa di cui molto spesso non valutiamo la valenza. Io voglio farvi vedere qualche slide, se posso, perché al di là di questa slide di benvenuti, di benvenuto, ci sono alcune cose. Ci comunicano, scusami Alessandro, scusami Alessandro, intanto saluto Adriana, che ti ringrazia per il tuo intervento, Gilda e quant'altro ci stanno seguendo, però ci comunicano che c'è un problema di linea internet, come se il segnale saltasse. Riccardo, puoi dare un'occhiata? No, no, il segnale va bene. Secondo me è sicuramente un problema perché devono impostare la qualità a 720, quindi dovete andare sulla rotellina, sull'ingranaggio. Ma loro, nel loro computer? Sì, 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 non è un problema di ruote. Ok, ora possiamo andare. Posso? Scusaci, scusami. Si legge approccio al color grading? Sì, certo. Sì, sì. Ok. Allora, per quanto mi riguarda, tutto potrebbe partire da una frase come questa, che è una frase che, secondo me, racchiude proprio il senso di tutto quello che facciamo. Quindi, quando noi parliamo di color grading, parliamo di utilizzare il colore all'interno dell'immagine video, sostanzialmente. Ma questa cosa noi non la possiamo fare con una certa efficacia se non sviluppiamo quella che io chiamo, o meglio, che qualcuno prima di me chiamava, coscienza del colore. E questa persona, che è arrivata a fare, diciamo, a scrivere questa frase, si è spinta anche in un paragone, perché dice l'assenza della coscienza del colore equivale in qualche misura al daltonismo, perché in effetti è così. Cioè, nel momento in cui uno non si rende conto di che cosa ha sotto gli occhi, è un po' come avere un problema alla vista. E quindi diventa una, come dire, una situazione un po' insidiosa. Insidiosa perché comunque, perdonami, il daltonismo lascia le persone comunque coscienti che quello che stanno vedendo è corretto. Non è tanto questo. Il problema del daltonismo è che, diciamo, all'interno del sistema visivo c'è un problema di funzionamento con alcuni tipi di recettori, per cui tu certi colori non li puoi vedere. Perfetto. Quasi sempre dipende dal tipo di daltonismo, ma il verde e il rosso. Cioè, non riesci a distinguere i colori più o meno su quell'asse cromatico lì. E questo è il motivo per cui i daltonici non possono guidare, perché non distinguono il verde dal rosso. E quindi si rischia parecchio la vita. Certo. Ok? Quindi, è come se, quando noi abbiamo la coscienza del colore, è come se noi non vedessimo le cose che abbiamo davanti. E questa frase qui, non l'hanno scritta oggi, ieri, sui social, eccetera. L'ha scritta una signora che si chiama Natalie Calmus nell'agosto del 1935, in un piccolo saggio di dieci pagine dove spiegava agli operatori del settore, vale a dire il cinema, come utilizzare il colore sul set. Ok? Perché questo? Perché all'incirca nel 1932 c'è stata una grossa differenza. Il cinema è passato dall'essere in bianco e nero all'essere a colori. Ma signori colori, non colori così. Perché la Technicolor, che era l'azienda che stava già sperimentando una serie di sistemi per creare l'immagine e il movimento a colori, arriva a definire quello che è il Technicolor numero 4 e da quel momento in poi io posso finalmente catturare la scena a colori. Questo ovviamente ha creato uno scompiglio totale, perché fino a quel momento la gente girava in bianco e nero. Certo. Ok? Allora, lei, che era la moglie di uno dei soci fondatori, scrive questo piccolo saggio e spiega alla gente, vale a dire, a tutti quelli che fino a quel momento il colore non l'hanno usato, come devono in qualche modo utilizzarlo. Ok? E non è un caso che si rifà a una serie di arti visive. Prima del cinema, ovviamente, l'arte visiva più diffusa era la fotografia. Ma la fotografia, prima della fotografia, che cosa c'era? La pittura. Quindi, voglio dire, all'interno della pittura il colore è sempre stato utilizzato. e avere a disposizione solo alcuni tipi di colori ovviamente poneva dei limiti tecnici notevoli. Fino a circa il 1800, in cui non si poteva sintetizzare il colore così come si voleva, bisognava utilizzare le risorse minerali, vegetali e compagnia bella che c'erano a disposizione. Quindi il colore era anche una roba un po' d'alchimisti, insomma. Non lo facevi il colore, se non sapevi come miscelare una serie di materie prime e compagnia bella, alcune anche piuttosto dannose, tipo la biacca, per esempio, che serviva per fare il bianco delle tele. Però, da un certo punto di vista, il fatto di utilizzare poca roba creava, come dire, un utilizzo più consapevole. Ok? Ora possiamo fare quello che vogliamo. Nella pittura prima, nella fotografia dopo, nella in cinema ancora dopo, o nel video, lo possiamo fare con qualunque mezzo. Come dice Werner Herzog, oggi non c'è più nessuna scusa per non girare un film, perché si può fare qualunque cosa con un costo bassissimo, ridicolo, ridicolo, assolutamente ridicolo. Allora, quello che io riscontro è a che punto siamo oggi. Oggi siamo a un punto in cui c'è stata una inversione di tendenza, cioè, siamo talmente portati a essere circondati e a usare noi stessi immagini in movimento o statiche e quindi il colore in compagnia bella di tutto quanto il resto, che è quasi come se avessimo, come dire, bombardato l'umanità intera di stimoli. Quindi, è come entrare in un posto dove un sacco di gente parla, ce n'è tanta di gente, tantissima, miliardi di persone che parlano contemporaneamente, che cosa si crea? Si crea un enorme rumore, un enorme brusio dove tu fai fatica a capire pertino che lingua si parla. Percebire le parole vorrette, certo. Esatto. Quindi, quello che dico io è che il rumore oggi è troppo alto e quello che riscontro non solo io ma molti operatori del settore, soprattutto all'interno della formazione, è che alla fine, soprattutto nelle nuove generazioni, tutta questa iperproduzione di colore ci rende ciechi. O meglio, chi è nato in un momento in cui, storicamente, per produrre una certa fotografia o una certa immagine c'era tutto un processo che richiedeva del tempo e soprattutto non potevi prevedere il risultato, dovevi ragionare al contrario. Dovevi capire che cosa sarebbe successo sulla pellicola, sul video, in proiezione e quello che era e quindi andare a ragionare prima di fare. Ora, non è più necessario questo, perché io giro, guardo e questo mi dà la possibilità di girare qualunque cosa. Ma il punto è, è come se io potessi schiacciare un tasto e cucinare qualunque cosa. È cucinata bene quella cosa, soprattutto è adeguata a quello che devi mangiare in quel momento? È una cena galante? Hai schiacciato il tasto giusto? È una cena veloce? Hai schiacciato il tasto giusto? Perché se tu mangi il cheeseburger in una cena galante al lume di candela, lo puoi fare, non è questo il problema, però diciamo che non è proprio il top. Ma io mi chiedo pure Alessandro, ma quello che abbiamo schiacciato è quello che volevamo realmente ottenere? E questo fa parte dello stesso argomento, della stessa domanda. Io ti faccio vedere alcune cose che io vado catturando sui social e questa è una cosa classica. Questo film che è Gran Budapest Hotel, dove c'è uno studio del colore eccezionale, c'è sempre questa domanda che ogni tanto torna fuori. Dice, ah, ma come posso fare? Guarda che bella palette colori e come posso fare per prendere questi colori e metterli nel mio video? Io ogni volta commento la stessa cosa. Guarda, è facilissimo. Vai su un set, prendi un mobile rosso dietro, dopo prendi un banco dorato, gli metti sopra un marmo più o meno rosa, poi prendi questi tre signori, gli metti dei fichigliola, ok? E poi, non lo so, prendi queste lampade di ottone, eccetera, eccetera, ecco la tua palette colori e questa qua. Di che altro dobbiamo parlare? Perché questa cosa non c'è color grade, sì, c'è un po' di color grade, ma questa cosa nasce con un'idea sul set, non nasce in post-produzione ed è questa la struttura mentale che c'è oggi. Cioè, noi pensiamo, guardiamo il risultato finale e pensiamo che quella cosa si possa prendere e trasferire su quello che facciamo noi. Non ci poniamo il problema fondamentale, che cosa facciamo noi prima di schiacciare REC. O anche questo, per esempio, questo è fantastico perché pensa di poter, come dire, rubare una palette colori da un video e trasferirla pari pari all'interno del suo girato e va trovando anche un tutorial, un tutorial, fra l'altro anche sgrammaticato, un tutorial per fare questa roba. Cioè, siamo arrivati all'estremo, capito? Come faccio io a rubare la ricetta di Carlo Cracco, di Angelo Cannavacciuolo e a trasferirla sulla pasta che sto cucinando in cucina? Secondo me anche YouTube ha giocato un ruolo in teoria non puoi a meno che non lavori con Cracco pianco a pianco la rubico io. A meno che non do sia. E nemmeno, e nemmeno. E nemmeno. Io non do la colpa a YouTube perché come al solito è un problema di come si usa la tecnologia. YouTube è un mezzo, tutto sta a che messaggi dai. E' chiaro che quando abbiamo il fiorire, proprio lo sbocciare, l'apoteosi del guarda che questa cosa è facile e la puoi fare in due minuti. Metti una latte e i tuoi colori saranno wow e quindi giù a vendere latte con Hollywood style, blockbuster style, Joker style, non parliamo dei tutorial su Joker che proprio sono una cosa mamma mia. Non si può dire. allora il messaggio che passa è che tu veramente puoi prendere come dire i sapori del piatto di Cracco e copiarli e applicarli alla tua carbonara e verrà fuori la carbonara di Cracco o verrà fuori il branzino al sale di Cracco o l'insalata di salmone di Cracco. Cioè qualunque cosa. Il problema è un altro. Quando io mi trovo a dover fare color correction e color grading, se io per esempio faccio una domanda del genere, cioè per voi che cos'è color correction e color grading? In ogni caso sono due sistemi diversi. Prima fai la color correction e poi dai il mood al tuo video secondo la mia esperienza. Allora, sì e no. Nel senso che per quanto mi riguarda considerate anche che il mio background proviene dall'immagine statica. quindi io ho fatto e continuo a fare la penna della tavoletta docet il ritoccatore per pubblicità, fotografi, eccetera. Quindi io ho più di vent'anni di esperienza in questo settore, ho ritoccato tante campagne, cataloghi, beauty, veramente di tutto e poi sono passato all'immagine in movimento. Chi mi conosce da tanti anni lo sa. Quindi mi porto dietro un background che è quello comunque dell'immagine statica che ho trasferito pari pari nel video. alla fine della storia color correction e color grading sono la stessa cosa. Quello che cambia è il modo in cui lo fai. Cioè per me sono ogni modifica che tu fai intenzionalmente per alterare un qualcosa. Sia essa un'immagine statica o un'immagine in movimento. Perché se tu anche io posso fare anche color correction con un telefonino. Non è un problema. Lo posso fare anche con un filtro di Instagram. Io giro una cosa vedo che è troppo gialla non mi piace gialla userò un filtro che mi aggiunge del blu e mi toglie il giallo. Perché non mi piace giallo. Quindi la mia decisione è quella voglio una cosa più neutra. Oppure se è gialla ed è venuta fuori per caso e dico beh però è figo giallo lo lascio giallo perché è caldo mi dice è un momento bello e dico ok la lascio gialla. è una decisione anche quella. Quindi dove sta color correction e color grading? Certo nel flusso di lavoro c'è una prima fase dove io vado ad allineare tutta una serie di cose e la seconda dove vado ad assegnare la palette colori ammesso che non ci sia già sul set ma nel momento in cui è stato fatto tutto questo sul set è come girare scattare la foto gialla e guai a chi la tocca. La concezione è sbagliata che il film il look del film lo fa il colorist è assolutamente da condannare perché il direttore della fotografia fa il look del film il colorist si deve occupare di trasmettere questo look a tutto il film in maniera costante e controllata e il direttore della fotografia non è che si sveglia la mattina e dice sai cosa Dennis pensavo quella scena di quando Ryan Gosling va a trovare Edison Ford la facciamo tutta quanta viola e blu e Dennis lo guarda e fa a Roger ma che no non va bene facciamo un colore che è caldo che è ok allora la facciamo tutta gialla e arancio ecco questa è una bella idea ok illuminano il set così la fanno così e viene fuori così ma perché è stata pianificata a monte anche il direttore della fotografia non decide il film lo concorda con il regista e tutto questo è un processo decisionale quindi quando andiamo a parlare di color correction color grading sono un processo decisionale che va assolutamente inquadrato all'interno di una serie di cose che si fanno con regista direttore della fotografia costumi scenografia luci e tutto quanto il resto Ale posso bloccarti e chiederti questa cosa naturalmente le tue sono parole sante ma nello specifico magari in diretta o non perché poi noi lo pubblichiamo nei nostri canali lo rivedranno naturalmente tutti i nostri colleghi che il 90,9% fanno matrimoni quindi diciamo che tutto questo dovremmo riuscire ad esserne capace e pianificare in seduta stante per intenderci non abbiamo tutte queste figure di cui parli te per poter poi avere un risultato ottimale come si può fare che dritte potresti darci allora ti volevo far salutare un po' dai nostri soci Antonio Casalucci Gilda Fontana Fabio Stanzione Antonella Pulvirenti Fabio Manca Alessio Barbieri se non erro ha pure scritto qualcosa e un mio caro amico Stefano Marconcini che è anche un mio caro amico sapevo che sarebbe stato in diretta quindi stai attento a quello che dici eh vabbè ma Stefano mi conosce sai che io lo so le sciocchezze quindi c'è abituato da anni ormai alle sciocchezze che dico ma allora io mi sono permesso di sintetizzare qua in questa tabella quelli che sono i problemi più comuni dello shooting per il wedding perché poi alla fine non è così tanto diverso da quando si girano altre cose allora il problema i problemi principali io in genere che trovo sono questi qua il problema del bilanciamento del bianco il problema della gestione della gamma dinamica quindi bruciature quando hai un'immagine eh troppo troppo chiara e quindi si bruciano le alte luci o troppo scura e quindi hai se stai girando sottoesposto e quindi hai molto rumore eh molto spesso il colore dell'incarnato non va bene perché perché la sposa deve essere bella però sei al sole ti batte tutto quanto qui quindi tu non ce la fai in tempo a chiudere il diaframma per poter in qualche modo proteggere le alte luci e poi c'è anche tutta una serie di problematiche inerenti al fatto che si gira con dei codec che non sono propriamente adeguati molto spesso ma allora io quello che che mi posso permettere di dire è innanzitutto che non si gira se non si conosce bene il mezzo con cui stai girando questo è fondamentale una cosa che è scomparsa è una parola che inizia per ti e finisce per ti non è tenet di Nolan è test ok quindi non è palindroma ma è la parola più importante che si usa nel settore professionale nessun professionista in nessun ambiente professionale detto professionale si avventurerebbe a girare qualcosa se non ha fatto prima dei test perché perché se dopo hai un problema che non puoi risolvere è un problema che è irrisolvibile noi sistemiamo e facciamo diciamo una serie di magheggi ok chiamiamoli così proprio per evitare questo problema ma quando il file che è digitalizzato non ha quelle informazioni non ci sono né santi né in cielo né in terra né da nessun'altra galassia che ti possono far recuperare quelle informazioni perché non ci sono nel file quindi capire come funziona il log di una sony di una canon di una black magic di una qualunque camera è fondamentale perché devi capire come cambia la colorimetria della tua camera molto spesso mi sono trovato a girare con delle sony per esempio che utilizzate in log avevano una colorimetria discutibile perché perché non è il tipo giusto di camera per girare il log allora molto spesso tanto vale non utilizzarla in log piuttosto cerchi di ridurre l'esposizione sul set quindi il comunque la camera ha un un limite di cattura che in ogni caso è limitato è definito quindi se tu sai che puoi girare con una camera in log e la colorimetria viene mantenuta bene gli incarnati sono buoni e tutto quanto il resto allora il log ti aiuta ma se quella cosa tu non la puoi fare allora il log lo devi evitare e se devi evitare il log devi stare molto attento all'esposizione perché il file che è il file quello normale REC709 ha una gamma dinamica che è piuttosto ridotta c'è una modalità che io consiglio a chi utilizza per esempio le sony dove tu puoi impostare il profilo foto i famosi PP1 PP2 eccetera eccetera al di là che adesso su alcune camere è stato introdotto il cinetone che è il profilo foto il profilo di curva e di gamma di curva di gamma e di gamut che proviene dalla camera di fascia alta che è la sony venice anche sulla alfa 7s3 per esempio e il cinetone devo dire che nasce proprio per cercare di dare un file che non deve essere lavorato come il file in log che abbia un buon incarnato e tutto quanto il resto è un buon profilo effettivamente le immagini che ho girato con il cinetone devo dire che sono molto buone però ha una gamma limitata un altro profilo per esempio che io consiglio di usare quando si usa una camera sony se non puoi usare il log perché non hai come dire il contenitore la scatola che ti consente di gestirlo bene mettiamola così allora io consiglio di usare un profilo che si chiama etu709 800% che è una curva che ha creato la sony che ti evita il problema più comune ovvero quello delle bruciature nelle alte luci quindi è un file che esce più piatto un po' più grigio però ti dà più gamma dinamica se sei all'aperto quello ti protegge di più e ritorniamo sempre al discorso di sapere come è fatta la tua camera e prevedere un problema prima che succeda non dopo ok ma è scaricabile questo profilo oppure ci sono le indicazioni allora sulla 7S3 sulla 7S3 si può viene incluso automaticamente con l'aggiornamento del firmware e chi ha invece altre camere come la 7S3 e non la S sulle altre camere non credo che l'abbiano implementato ok no intanto salutiamo che è arrivato Roberto Lucignano e Francesco Mazzeo ti saluto anche ciao alcuni di questi li conoscono così per nome altri voglio voglio fermarmi 10 secondi per dare il tempo ad Alessandro di bere e volevo comunque comunicare a tutti quelli che sono in diretta se volete fare una qualsiasi domanda domanda titola e scrivetela che io la leggerò e Stefano ribatte sempre sulla stessa cosa ormai siamo diventati amici da pochi mesi ma è un piacere parlare con lui per me sempre è solo log ma a 10 bit ecco e qui entriamo ai 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 io scontri in diretta non ne voglio eh ragazzi non cominciamo no assolutamente no no e Stefano è come se mi avesse dato un assist e a me tocca fare il gol eh certo eh certo allora sfatiamo anche un'altra cosa che c'è molta confusione soprattutto in settori non propriamente che utilizzano attrezzatori di un certo tipo c'è una grossa confusione perché si tende a considerare il girato in log come raw raw e log sono due cose completamente diverse eh tanto è vero che io ho qui una condizione di slide pronte per qualunque evenienza i formati di registrazione sono fondamentalmente due ok quando io schiaccio rec su una camera io posso registrare in due modi o raw o tutto il resto ok quindi questo è come io divido il i formati di registrazione e la differenza sta in una parola molto semplice che è lo sviluppo quindi quando io giro raw che qual è la differenza è che quello che registra il mio sensore viene immagazzinato in un formato in una scatola appunto come ho detto prima che posso sempre andare a risviluppare ora quando io giro una cosa raw non è detto che raw mi consenta di fare qualunque cosa assolutamente no dipende dalla qualità del sensore che ho sulla camera che sta girando però quasi sempre siccome il raw è il formato nativo con cui registra la luce il sensore della camera io poi posso poi svilupparlo in varie modalità faccio un esempio banale quando io giro in raw quello che registra il sensore non si può modificare ma la resa cromatica e quindi anche la curva tonale di quello che viene sviluppato sì ecco perché io posso per esempio sviluppare un raw in tanti modi diversi posso svilupparlo più chiaro più scuro eccetera eccetera non solo ma con alcune camere non con tutte io posso anche decidere la curva di log quindi per esempio se tu registri con una canon c100 c200 c300 eccetera eccetera in raw dopo tu puoi anche scegliere di entrare dentro premiere resolve o quel che l'è con clog2 clog3 clog lo puoi scegliere c'è il software di canon tu ti prendi il file raw decidi come lo vuoi sviluppare e lo sviluppi con quella modalità ma se il tuo sensore ha un range dinamico ridotto e tu hai sovraesposto troppo sei fregato lo stesso quindi il concetto è è che il raw ti consente di recuperare un sacco di informazioni in post e di risviluppare completamente il file dove il raw è fenomenale per esempio nel bilanciamento del bianco tu puoi rifare il bilanciamento del bianco perché perché in un flusso di lavoro nel percorso di segnale dal sensore fino al file finito quello che succede è che il bilanciamento del bianco viene fatto dopo quindi io ho sostanzialmente questo oggetto qua ok che è il file digitale e da questo sensore qui da questo segnale qua che non è un segnale visibile perché sono quello che è registrato il sensore con il filtro di buyer messo sopra quindi sono tanti pixel monocromatici rosso verde e blu io dopo vado a rimodulare questo rapporto fra rosso verde e blu a ricostruire i canali che mancano e nel fare questo decido che il bilanciamento del bianco deve essere fatto in un certo modo questo lo posso fare molto bene in fase di sviluppo e quindi girare row significa lasciarsi la porta aperta a una correzione di bilanciamenti del bianco sballati che è molto elevata ok quando poi vado a fare lo sviluppo invece quello che posso fare oltre al bilanciamento del bianco è anche applicare una curva tonale e questo il row ti dà tutte le possibilità che vuoi quando invece non posso girare row perché la camera non me lo consente allora utilizzare il log è un qualcosa che ti dà molto più margine di manovra ok perché si prendono i dati del sensore invece di andarli a mettere nella scatola classica del video in HD che è Rec.709 li vado a mettere in una scatola che diciamo è un po' più ampia e quindi mi consente dei margini di intervento successivi va da sé che se la scatola non è di qualità in termini di adesso non è il momento qua di andare cioè se volete possiamo accennare vagamente però il concetto è molto semplice i sensori registrano un segnale monocromatico sia esso rosso verde o blu perché sui filtri sulle singole cellule del sensore c'è un filtro colorato quindi il segnale che viene acquisito è un segnale assolutamente monocromatico per fare questo dopo lo devo questo nell'analogico viene fatto questo processo quindi la luce arriva sull'obiettivo anzi posso fare un disegnino come si fa certo certo ci mancherebbe allora togliamo questo quindi qua io ho la mia scena ok quindi ho il mio range cromatico qui ho il mio sensore vedete come sono bravo io a disegnare i sensori io sono veramente un mago ops e così via eccetera eccetera ok ognuna di queste celle qui registra l'intensità della mia scena ok dopodiché che cosa succede qua questo è il mio sensore CMOS o quel che l'è dopodiché questi segnali qui io li vado a mettere dentro un contenitore che è un file raw che tipo di raw quello che volete b raw cr cr raw r3d tutto quello che vuole punto a r mxf bla 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 dopodiché da questo raw io posso fare una serie di operazioni posso innanzitutto fare un bilanciamento del bianco e quindi posso ricostruire il bianco come voglio io poi oltre a questo posso fare anche un'altra operazione vado ad applicare una curva tonale che curva tonale è dipende se la curva classica r709 rx709 sarà una curva fatta più o meno così se invece è una curva log sarà è una curva fatta in un altro modo che è una curva che fa così ok sono un pessimo disegnatore di curve sappiatelo però il concetto è che quando io parto da raw faccio tutta questa operazione quando io non parto da raw vado a fare lo sviluppo il bilanciamento del bianco e poi mi fermo qua a questo punto qui qui devo decidere se mettere la curva rx709 o la curva log e nel caso che curva log quando voi per esempio su una sony su una canon eccetera dovete scegliere il profilo foto potete scegliere sostanzialmente in primis la curva tonale che può essere per sony s log s log 2 o s log 3 oppure ci sono altre curve tonali c'è itu 709 quella che vi ho detto prima che si chiama itu r709 800% adesso sulla ss3 e sulle altre camere c'è il cinetone e compagnia bella ma dopo quello che io ho qua dentro o e log o rx709 se e log ho più possibilità di intervento però il problema della curva log qual è è che utilizza sempre le stesse informazioni che ha catturato il sensore e le va a mettere all'interno di questa famosa scatola questa scatola deve avere un numero di come dire di valori di luminosità per poter descrivere una curva molto critica come quella del log che schiaccia i dati in una serie di zone di esposizione e i bit sono importanti perché quando io vengo a utilizzare più o meno bit la situazione cambia ogni bit in più significa che io utilizzo il doppio dei valori per campionare quel segnale quindi quando io utilizzo una camera che gira in log a 8 bit io ho solo 256 livelli per canale per poter fare questa roba quando invece io giro e la metto in una scatola che ha 10 bit io ho 4 volte tanto i valori questo che cosa vuol dire tornando al disegnino pedestre che ho fatto prima se io vado a prendere un segnale che è questo qua ok lo vado a utilizzare all'interno del mio file e creo una curva che è così ok ammesso che il mio segnale stia all'interno del massimo range che io posso catturare con un sensore quando io poi vado a prendere questo segnale qua che cosa succede che questo è il mio log e a questo log il log non si può utilizzare così perché è troppo piatto quindi devo applicare una trasformazione che me lo riporta in rec 709 e questa trasformazione prenderà questa curva e cercherà di ricostruire che cosa quello che avevo in origine però supponiamo che qua io ci abbia 256 valori quanti ne sto sfruttando qui adesso utili siano la metà qui ne ho sempre 256 perché il mio formato finito è a 256 livelli di grigio questi valori mancanti che sono da qua fino a qua il software se li deve inventare se invece utilizzo un file a 10 bit io ho 1024 valori e posso anche avere 256 finali non mi interessa ma qua io avrò quattro volte tanto le informazioni quindi quei valori che io ho utilizzato per descrivere il segnale utile quando li vado a portare nel mio file finito non avranno gli artefatti che invece hanno quando utilizzo un segnale troppo povero questo senza entrare nel merito di che codec stiamo utilizzando quindi se stiamo qui sto ipotizzando un segnale full RGB senza nessun tipo di compressione né di compressione spaziale 420 422 e compagnia bella e senza nessun tipo di codec che comprime le immagini toglie informazioni che ritiene percettivamente non rilevanti e così via se a questo discorso qua ci aggiungiamo anche questo ovviamente noi abbiamo un segnale che è poverissimo e di questo ce ne rendiamo perfettamente conto quando andiamo per esempio a ah ma il cielo è un po' bruciato andiamo a mettere un po' un degrade sopra oppure andiamo a cercare di aumentare la saturazione si iniziano a creare le scalettature le bande di colore e tutta una serie di artefatti che sono tipici dei codec tipo l'h264 di fatto se girate in log con un codec tipo h264 che è un codec che può arrivare a più di 8 bit non è detto può utilizzare 12-14 bit l'h264 dipende da come lo vai a implementare nelle camere lo standard c'è ed è previsto solo che ovviamente implementarlo significa avere molta più occupazione di spazio sulla scheda e quindi la gente dice no ma non me ne frega niente e allora sappi che se utilizzi l'h264 dopo puoi avere dei problemi ritorniamo sempre al discorso è un po' come non lo so tu dovessi fare la tua pasta al forno e poi la metti dentro un forno che non è ventilato non cuoce bene anzi tende a bruciare sopra e a fare freddo sotto se quello è il forno che tu vuoi usare e hai deciso che vuoi usare quello perché consuma meno corrente sai che ottieni quel risultato tanti cari auguri esatto quindi il concetto di base di utilizzare un formato di file per andare a mettere dentro le informazioni che sono informazioni preziose è fondamentale sui set cinematografici si gira in raw perché? perché vogliono avere la possibilità di rifare tutto da capo nel caso in cui ci sia la necessità ok poi non è mica detto che il raw abbia sempre più informazioni del file sviluppato io posso utilizzare un ProRes 444XQ con un sensore che magari in cattura ha 10 bit 12 bit e quindi sto usando una scatola che è più grande di quello che ha registrato il sensore sono tutte questioni tecniche che si vanno a riscontrare poi sul campo poi bisognerebbe entrare a parlare anche di come è fatto un certo tipo di log perché in base a come è fatta questa famosa curva e di quante informazioni utili io ho nel mio file quando poi lo vado a riespandere chiaramente si possono creare degli artefatti la lavorabilità del file bla 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 Alessandro noi naturalmente cerchiamo in qualche modo di dare aiuto ai nostri cari soci quindi stiamo cercando appunto di dare quante più informazioni che magari qualcuno può sembrare possano essere banali ma banali non lo sono perché in realtà magari tanti queste domande nemmeno se le pongono quando vanno a schiacciare il rec perché allora girate col telefonino scusa bravo 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 lo so lo so però se stai usare bene allora ecco parliamo anche di questo nel senso che io non sono io non dico che bisogna usare tutti l'Alexa 65 o la Mini LF o la Red o la compagnia bella o la Sony Venice ma il punto è un altro se io so che devo utilizzare il telefono per girare mi organizzo di conseguenza bravo e questo è il punto cioè se io so che sono in una situazione disperata allora per esempio la storia dei droni no ok che camera ci metti sul drone certo ci sono i droni che nascono con la camera già quella è quella rimane ma in un certo tipo di settore decidi che camera mettere sul drone e la camera sul drone come deve essere gestita sono decisioni quindi sono tutte cose che riguarda poi dopo quello che fai prima ti può dare delle possibilità o stringere le possibilità sul dopo quindi il fix it in post dovrebbe essere prima fix it in pre e poi in post perché se non lo fai in pre in post non è mica detto che tu lo rieschi a fare la mia domanda era questa tu essendo un docente hai anche il tuo sito dove hai corsi mea culpa mea culpa non ho un sito nel senso che ce l'avevo anni fa come ritoccatore non ho un sito come insegnante lo so oltre a la mia famiglia me lo dicono tutti fatti il sito fatti il sito fatti il sito di fatto chi mi vuole contattare mi può contattare su facebook su instagram quindi riesci anche a fare delle lezioni questo voglio capire se chissà qualcuno volesse fare fare una domanda poi a noi lo diciamo ora e ce lo troviamo in diretta quindi tu dai anche corsi e fai corsi per spiegare quello che è il color grade e color correction questo dico allora il tipo di corsi che faccio spaziano sono molto ampi dalla lezione individuale quindi il training one to one one to one ci mettiamo uno di face to face per intenderci anche se online adesso siamo esatto camera to camera però a breve dovremmo tornare siamo a fianco saremo tutti vaccinati tutti tamponati eccetera e quindi dovremmo averla in qualche modo sistemata questa faccenda però in linea di massima quindi si parte dal one to one dove il programma viene fatto assolutamente sulle esigenze dell'allievo di che cosa ci sono tanti professionisti che mi chiamano la settimana prossima abbiamo uno che ha girato ha montato eccetera eccetera adesso vuole capire come fare la color e quale cosa migliore che farlo sul lavoro vero oppure diciamo che non un problema ma molti colleghi ci hanno sollevato questa esigenza si mi piace il lavoro però ora sentono l'esigenza di capirne meglio su quello che è l'aspetto di colorimetria non è non è un difetto non conoscere questi aspetti il fatto che fino ad oggi tu hai fatto quello che hai fatto ma senti l'esigenza di informarti significa che cominci a crescere più di quanto non lo sia già cresciuto ma io sono sempre molto d'accordo su chi vuole studiare aggiornarsi eccetera perché io stesso mi ritengo un eterno studente non smetto mai di studiare perché le cose stanno andando molto avanti c'è l'HDR di mezzo con tutta una serie di problematiche da come ci gira come si gestisce a come si consegna a come si delibera e compagnia bella però le alternative al corso one to one perché comunque il costo è abbastanza ingente perché è come chiamare un professionista che sta a disposizione tutto il giorno per te ci sono anche altre occasioni io insegno il centro sperimentale di cinematografia di Roma e Milano dove facciamo un laboratorio intensivo di 5 giorni più uno di diciamo così che serve per insegnare per come dire impratichirsi di Resolve per chi non è ancora avvezzo Resolve il costo è assolutamente abbordabile e è un corso molto importante perché sono quasi 50 ore condensate in 6 giorni di formazione ma dico abbiamo i link ci fornirai poi i link e noi li metteremo magari a disposizione dei nostri soci se volete quelli del centro sperimentale sono disponibili su csclab.it adesso mi costringe a un'operazione no 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 questo lo facciamo in un secondo momento Alessandro tranquilli anche perché magari poi vedremo se farti contattare dal nostro presidente per trovare provare a vedere se ci può essere una sorta di partnership o sodalizio tra perché noi vogliamo noi siamo qua per cercare di formare ancora di più i nostri cari soci quindi chi è socio nv deve avere il valore aggiunto deve avere trarre del guadagno nel senso anche a livello professionale quindi poi tutte le domande del caso o io o chi per me o chi per l'associazione magari ti contatto o Adriana stessa per avere delle informazioni nello specifico e poi noi li giriamo ai nostri cari soci questo è anche l'altro aspetto nel senso che io posso fare interventi durante fiere eventi quando si ricomincerà ovviamente a farli il che dovrebbe succedere a breve perché poi voglio dire molto spesso io faccio consulenze lavoro e collaboro con alcune aziende del settore Sony Harry Epson Eizo e compagnia bella quindi voglio dire le mie collaborazioni sono piuttosto ampie non ci sono si possono fare tutta una serie di cose e ovviamente anche strutture come possono essere la vostra con cui possiamo stabilire degli eventi tematici si possono fare tutta una serie di iniziative che io caldeggio perché il problema più grosso come vi ho detto all'inizio è che c'è poca coscienza del colore quindi siamo in una fase in cui fra l'altro l'Italia è il paese dove ci sono circa il 70% delle opere d'arte del mondo questo vuol dire che la cultura del colore e artistica che noi abbiamo in Italia non ce l'ha nessun altro paese ok eppure fotografia cinematografia immagine produzione di immagine e manipolazione dell'immagine sono cose ancora delegate a strutture specifiche che spesso lo fanno così così viene pagata e finanziata meno di zero e questo è grave cioè Favino e David di Donatello ha fatto un intervento che secondo me era da standing ovation di tutta l'Italia però purtroppo ovviamente queste cose culturalmente in Italia si fa fatica a proporle che era mettete in mano ai ragazzi nelle scuole le cineprese fateli girare dei film perché con questo mestiere si imparano tante cose che poi non è detto che debba essere per forza il cinema perché il color grading adesso si utilizza in qualunque altra cosa si utilizza nei reality si utilizza nelle trasmissioni televisive si utilizza perfino il Papa un anno fa quando ci fu l'Angelus nella piazza deserta di San Pietro io è un esempio che porto sempre ma lì c'è stato un grosso studio del colore perché quelle scene lì erano degne di Sorrentino e Bigazzi insomma quindi oramai il colore è qualcosa che funziona perché abbiamo ce l'abbiamo scritto nel nostro DNA ok da quando siamo eravamo cavernicoli o da quando stavamo sugli alberi e poi ci siamo evoluti quindi abbiamo sempre avuto la necessità di usare il colore per raffigurare per rinforzare per come dire sottolineare una serie di messaggi e certe cose funzionano perché sono scritte in maniera scolpita proprio nel nostro DNA quindi continuano a funzionare quello che manca adesso è proprio la coscienza del colore quindi capire come padroneggiare questa materia è tutto qui il penso guardi noi noi Alessandro ci ripromettiamo comunque di provare a fare un certo tipo di discorso con te naturalmente in un'altra sede perché vogliamo puntare alto con l'associazione vogliamo in qualche modo creare formazione possiamo già anticiparti che abbiamo iniziato un percorso chiamato ANV Academy che è veramente qualcosa di innovativo nella nostra associazione giusto per dare gli stimoli e per dare gli strumenti corretti ai nostri diciamo soci per far capire che comunque il nostro mestiere fatto in maniera professionale deve essere quel livello quel gradino in più a differenza di chi invece si forma privatamente cioè noi cerchiamo di creare una crew di professionisti di alto livello questo è quello che vogliamo fare io sono molto contento di questo tipo di iniziative perché se sono gestite nel modo giusto con la qualità giusta creano comunque una base su cui poi dopo come dire anche il mercato professionale si andrà ad appoggiare perché i professionisti di domani li formiamo oggi bravo problema grosso che si riscontra da tutte le parti ma non solo nel settore del video questo è che purtroppo manca un'impostazione che prima c'era perché certi strumenti te la imponevano adesso nel momento in cui tu puoi fare qualunque cosa banalmente sei in una fase in cui le cose che fai mediamente sono piuttosto inutili e quindi non fanno altro che sovrastimolare creare affollamento e quindi la soglia dell'attenzione è molto più alta e così via il più grosso problema che io riscontro quando vado a insegnare color grading è una cosa che è il primo step l'analisi dell'immagine perché la gente non vede le cose che ha sotto gli occhi e quindi prende la decisione sbagliata ma l'hai vista che questa cosa è tutta rossa è tutta verde le altre luci fatte così no e allora fino a che non spaghiamo questo è un po' come come cucinare con il naso e il gusto senza assaggiare senza odorare quello che stiamo cucendo esatto riccardo tu hai qualche cosa da chiedere al nostro caro c'è qualche altra domanda dall'audience allora dall'audience no non vedo domanda abbiamo stesi tutti abbiamo attesa sì esatto secondo me si sono ho inserito qualche link quindi il link al tuo profilo è il link anche alla CSC Lab quindi così se i soci vogliono andare a vedere possono andare tranquillamente comunque Alessandro ascoltare te saremmo qui fino a domani credimi no 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 al di là allora tanti professionisti sono in gamba però l'essere bravo è diverso da saper spiegare determinate coscienze quindi tu sei capace ci hai tenuto avevo difficoltà a bloccarti perché volevo darti un po' di aria perché ci tenevi incollati al monitor beh alla fine diciamo rispetto alla scaletta che ci siamo dati come approcciare correttamente il color grading l'abbiamo detto quali sono i problemi più comuni nei video di wedding e come risolverli beh questo è un po' lunga però qualcosa l'abbiamo accennato fix it in post o fix it in pre l'abbiamo detto e qualche chiarimento sul log raw e le lat come usarle al meglio se volete vi dico una cosa sulle lat che dura esattamente un minuto e così certo ce l'abbiamo abbiamo questo minuto allora la lat è sostanzialmente una cosa molto semplice è una trasformazione colore quindi quando io utilizzo una lat ci deve essere un segnale di in e un segnale di out ok quindi questo fa sostanzialmente una lat prende un segnale e lo trasforma tanto è vero che io posso creare una lat da qualunque cosa anche da un grade che ho fatto dentro risolvo o in premiero o in photoshop anche si possono creare le lat io faccio le cose in un certo modo però quello che nessuno considera mai è che questa lat funziona se in è fatto in un certo modo come deve essere fatto dipende può essere in log e a questo punto dipende che tipo di log può essere in rec 709 e allora a questo punto funzionerà in un certo modo se io una lat che è stata creata per il log non lo so il log c di Harry o l'S log 3 di Sony ok se io gli do il log c e questa lat è stata fatta per l'S log 3 non funzionerà oppure produrrà dei risultati che non sono esattamente quelli che mi aspetto ecco e qua gioca la conoscenza caro Alessandro la conoscenza tecnica perché tu hai detto non funziona non funziona noi invece noi parliamo che ancora non c'è conoscenza pensiamo che quello è il risultato che può essere gradito ai nostri occhi o non gradito però se non funziona non funziona punto allora io ti dico che ho creato la lat di Joker e quindi se tu ti compri questa lat mi dai 50 euro guardami 50 euro io ti do a te la lat di Joker e tu con questa lat quando vai a girare avrai lo stesso look di Joker io sono un furfante ti sto rubando i soldi perché il problema di questa lat di Joker che non ti dice con cosa è stato creato con che tipo di log c'è anche un'altra questione che è lo spazio colore ma non voglio entrare in quello perché se no facciamo anche notte e quindi per avere il risultato di Joker quindi l'output come quello di Joker che cosa devi avere attenzione parliamo di un tipo di segnale ma quello che non considera mai nessuno è quale parte del film di Joker stiamo guardando quella di notte quella di giorno quella in casa quella all'aperto perché su questa storia qui si può fare di ogni quindi la famosa lat cine Hollywood eccetera eccetera è una lat fatta per un certo tipo di segnale ma poi dopo se è fatta per un tipo di segnale estremamente ampio come contrasto perché è una scena ripresa al sole ecco pariabella non funzionerà nello stesso modo una scena di interni amore fra lo sposo e la sposa verrà una posso citare Fantozzi? una cattata pazzesca e questa è la storia delle latte quindi le latte vanno utilizzate ma bisogna sapere per cosa sono state create che tipo di segnale e soprattutto con quale intenzione perché la latte può essere di semplice conversione da log a una certa altra cosa ma può essere anche una latte creativa che nel fare questa conversione sballa i rossi li mette più caldi più freddi mette i blu più viola o meno viola eccetera eccetera se tu non sai cosa fa questa latte e da che cosa devi partire è come prendere un aggeggio che tu lo metti sul tuo tavolo e ti cucina la carbonara da solo sei stato sei stato non chiarissimo di più caro Alessandro quindi con questa ultima tua battuta penso che il nostro tempo a disposizione anche perché è andato molto oltre no 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 molto oltre no e noi ti ringraziamo per questo tempo che ci hai dedicato siamo siamo veramente felici e onorati quindi ci risentiremo sicuramente a nome di ANV per poter pianificare un qualche cosa insieme laddove naturalmente ci sia l'interesse perché noi prima di muoverci facciamo sempre dei sondaggi tra noi soci per capire il livello di interesse di ognuno di noi e sicuramente ci rivedremo ci risentiremo e quant'altro io ti ringrazio nuovamente ringrazio ANV per questo spazio grazie Alessandro grazie grazie Riccardo e grazie ad ANV e a tutti quelli che sono rimasti qui sacrificando un pezzo dell'aperitivo no assolutamente è il nostro interesse saluto tutti e buona serata ciao ciao grazie ciao ciao ci vediamo ciao 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 ciao